Nanni, grazie per aver messo mi piace a tutte le foto della mia figlia su Instagram. Chi è la tua figlia? Buongiorno a tutti i ragazzi, spero stiato bene, Dio Bu. Vabbè, nel caso, chiedo scusa, non sapevo che fosse la tua figlia. Tu ma. Ti chiedo scusa, io non vado mai alla ricerca di ragazze fidanzate. Nanni smettila di fare il finto tonto. No, no, davvero, davvero. Non l'ho mai fatto, a parte stramega, rarissimi casi. Scrivimi in privato chi è, così magari non replico. Devo dirti che non si è comportato bene. Hai toccacciato le buba alla mia tipa e non mi hai fatto neanche VIP. Comunque, bella cicatrice che avevi in testa al Games Week. No, era panetti, credo. Perché nessuno mi ha chiesto se potessi toccare le tette alla sua ragazza? Sono rimasto un po' male.